Ciao ragazze, volevo fare questo video perché mi ha taggato Nancy Ciao Nancy, grazie per avermi taggata in questo video Il video tag viaggi e vacanze, quindi un video risposta a make up nancy58 Ti mando un bacio Allora cominciamo, mi sono scritta qua tutte le domande Allora, di solito fai vacanze brevi o lunghe? Allora, di solito faccio vacanze brevi, di circa una settimana Mare, montagna o città d'arte? Allora, di solito vado sempre a mare, però a me piace anche la montagna Però non sempre vacanze brevi Città d'arte? No, non mi piace Poi, viaggio organizzato o all'avventura? No, non mi piace, viaggio organizzato Poi Quarta domanda Hotel o campeggio? Hotel Perché in campeggio sono stata una volta e non mi è piaciuto Poi, zaino o valigia? Valigia Vacanze Calme e rilassanti o l'avventura è dinamica? No, vacanze calme e rilassanti Poi Organizzi tu? Organizzi tu o lasci organizzare? Lasci organizzare Poi, viaggi da sola o in compagnia? No, in compagnia perché è molto più bello Hai mai fatto un viaggio da sola? No, non ho mai fatto un viaggio da sola Poi Per raggiungere un posto di vacanza? Usi più spesso aereo, treno o auto? Auto Poi, la vacanza tranquilla che hai fatto più bella? Allora, la mia vacanza più bella è stata Ero più piccola, vero? Tengo sui 32-33 anni a Rivini Insieme a mia sorella e un'altra mia amica È stata la vacanza più bella che ho mai fatto Quindi Rivini Poi, la vacanza tranquilla che hai fatto più brutta Allora, sì, sempre ero più piccolina Sono stata a Maratea Un posto che si chiamava Acqua Frida Bruttissimo Dovevamo stare i 20 giorni Siamo rimasti per una settimana E ce ne siamo fuggiti Insieme a tanti amici Poi, il posto che hai visitato maggiormente che ti ha affascinato Allora, è Positano È uno dei posti bellissimi, mi piace un sacco Positano Poi, il posto che hai visitato e ti ha maggiormente deluso È questo posto a Maratea, Acqua Frida Poi, tre mete dove vorresti andare Allora, Parigi Londra, Venezia Poi Quest'estate dove andrai? Allora, non lo so ancora Non abbiamo ancora organizzato niente Quindi, o vado a mare e andate in ritorno Oppure organizziamo qualcosa all'ultimo momento Sempre una settimana Ultima domanda A chi targhi? Allora, io voglio targare in questo video Dora Leoca Ti mando un bacio Poi a Monique BBBAAA Bilancia Sasa Kiss Gibellina72 E Rossella Ciante Mando di nuovo un bacio a Nancy Grazie che mi ha targato nel video Che anche altre ragazze facciano questo video Vi mando un bacio Un bacio a tutte Al prossimo video Ciao